Grazie a te Francesca, un abbraccio, ciao, ciao, guardate come sono venute belle, le ho fatte io, le hai fatte tu, complimenti veramente Chiorenzo, pronto? Buonasera, buonasera, grazie, con chi parliamo? Ciao Tindaro, buonasera, ciao, ciao Tindaro, buonasera, dalla Sicilia. Io per la parola ho fatto un lavoro di primavera del mondo, che ci sia salute per tutti nel mondo e soprattutto voi a tutti, per tutti un abbraccio per tutti, sono a tua madre, 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 è tutto, è tutto, cosa devo dire? Grazie, grazie mille. Sto facendo le sue stelle, signore, le zeppole di San Giuseppe, sì, sì. Lo dicevo prima, ma lì siete ovviamente espertissimi nei dolci, quindi immagino anche, ecco, la Sicilia si distingue da tutti. Ti ringrazio Tindaro, ti ringrazio tanto, quando scenderò te li porterò. Va benissimo, ti ringrazio e ti auguro una buona, grazie. Grazie, buona serata anche a te, Tindaro, ciao. Ciao, ciao, ciao. Intanto stiamo preparando ancora quest'altra forma di zeppole di San Giuseppe. Adesso ho quasi finito di cuocere e poi ti faccio vedere come si fa subito subito la crema e come diventano belle. Perfetto, andiamo ad arricchirle, a colorarle un po'. Pronto? Pronto? Abbiamo dato delle forme diverse, con fiorente in sticò. Sì, vedi quando è ben lievitata, come tu metti la pasta nell'olio, confia subito. Sì, infatti. Se invece non si lievita bene. Pronto signora? Signora, mi sente? Non mi sente la signora. Sì, pronto, sono pronta signora, buonasera. Signora, io la sento malissimo, la invito, se può, gentilmente, a richiamarci perché si sente l'audio veramente molto disturbato. Penso che sia un problema del telefono dal quale lei ci sta chiamando, signora. Ce n'è un'altra, intanto andiamo a togliere le ultime zeppole. Pronto? Le ultime zeppole. Pronto, buonasera. Buonasera signora. Franca? Sì. Oh, signora Franca, buonasera. Buonasera. Benvenuta. Ma che sta facendo? Sono le grafene, non le zeppole. Le grafen, però. Le grafen, dice? No, signora, non sono i grafen questi. Ci sono, signora, ovviamente lo dicevo. Sono le grafen, un litro, 500 grammi di farina nell'acqua. Non riusciamo a sentirla bene perché l'audio va e viene, forse il telefono dal quale ci chiama qualche problemino in questo momento. Però, lo dicevamo prima, signora, ci sono diverse varianti poi alla tradizionale ricetta delle zeppole. Sì, i grafen che sta dicendo la signora, praticamente sono delle ricette che si usano in Trentino Alto Adige, si usano in Val d'Aosta, però si fanno. Sono più spesse, tipo sembrano dei mini panini. E poi, praticamente, si fanno riempire in tutti. No, 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 io le faccio così. Solo che viene cresciuto il lievito è un po' concentrato di farina. È vero? Non siamo riusciti a capire la vera sulla farina, signora. Signora, si sente male. Si sente attratti. Quindi sulla farina non abbiamo capito quello che ha detto, signora Franca. Eh, viene cresciuto il lievito nell'acqua. Ah, il lievito viene cresciuto nell'acqua? No, nella ricetta che ho fatto io no. Non ha fatto così, Fiorenzo, signora? Non ha fatto in questo modo, semplicemente io ho diluito il lievito nell'acqua e l'ho impastato subito. Ecco. Non ho aspettato più di tanto. Mi sa che la signora Franca è caduta, però c'è qualcun altro. Intanto, cosa hai fatto, Fiorenzo? Allora, questa è della ricottella di bufala. Come tu sai, adesso in zona ci sono degli allevamenti di bufala. E praticamente ho voluto fare questa cosa qua, la bufala locale, la mermellata di frutti di bosco, sempre della sila, la mescolo qua e poi mettere un po' di crema pasticcera. Ah, buona. Quindi ricotta di bufala con marmellata e poi crema pasticcera. Pronto signora, buonasera. Buonasera. Senta, io le volevo chiedere come mai non mi date la ricetta. In che senso signora? Non diamo la ricetta? La ricetta del gelcola, perché stiamo aspettando ma non... Come no signora? Noi l'abbiamo data prima e la daremo nuovamente tra poco. Non abbiamo chiuso ancora la trasmissione, quindi l'abbiamo detta già in apertura e la ribadiremo ancora una volta prima di chiudere signora, tra qualche minuto. Nel frattempo non la potete riprendere così... Sì, ma noi ci stiamo tornando più volte, forse lei si è messa in contatto con noi da poco, perché Fiorenzo... Sì, diciamo da un quarto noto. Ah ecco, e allora non è che non l'avevamo detta. Quindi se lei continua a seguirci la ricorderemo ancora signora, come no? Va bene? Senta, ma la crema ci va del gelcola? Sì, ora ci farà vedere anche questo, Fiorenzo. Sì, lo sto facendo signora. Se lei continua a seguirci capirà tutto il procedimento signora, ovviamente quello... Mi dice pure la ricetta della febbra? Sì, 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 anche quella signora, certamente. Ho la sentito. Va bene. Mi faccio i complimenti della trasmissione, della trasmissione. Grazie signora, da dove ci chiama? Chiamo da Montalto. Da Montalto, benissimo, grazie mille, buona serata. Allora, da Sella, io ho aggiunto... Ma, infatti, non mi scusi? Come signora? Signora, mi scusi, sono il marito. Ah, auguri allora. Buonasera. Buonasera. Ma scende questa musica nel... Ti vede questa musica in televisione? No. No, non scende. No, non scende. Non scende. Noi ci troviamo in una sua lideranza. Ah. Ci sono quasi 300 persone davanti alle persone che hanno lasciato di parlare per vedere queste cose. Ma veramente lo dice? Eh, non le faccio tutti nella musica, sì. Sì, sì. Aspettate qua. Addirittura, signori. Oh, che bello. Ora la sentiamo, la... Sì, sì, che l'abbiamo sentita. Quindi, non so se i nostri telespettatori hanno capito bene da casa. Lei ci diceva che ci sta chiamando da una scuola di mus... Di danza. Di danza, sì. Tutti golosi. Tutti golosi. Grazie mille. Grazie mille. Ecco. Non ho capito. Vuole, vuole? Se vi fate sentire un urlo da parte di tutti quanti, così li sentiamo. Aspettate, allora che qua... Allora, riferisco a loro perché se vi fate sentire in televisione, che vi state mostrando queste cose, con delle urla, riuniamo i tuoi gruppi. E no, pure l'altro gruppo. Addirittura, più gruppi siete, che cos'è? Aspettate, venite tutti quanti. Tutti quanti. Che bello. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Allora, ragazzi, a tre e... Gridate, mi scusi, mi scusi, signore. Sì, sì. Potete gridare Masterchef al suo tre? Allora, al mio tre dovete gridare Masterchef tutti insieme. Uno, due, tre. Grazie. Bravi, grazie mille. Grazie, buonasera a lei, a tutti quanti. Grazie. Posso dire il nome della scuola? Sì, ormai lo dica. Non lo dico, lo posso dire? Lo accenni, lo accenni, visto che siete stati così carini. Allora, la scuola è la flash dance diretta da una barna che aspetta il mondo al Toscano. Ah, benissimo. Grazie mille. Uno, due, Master. Sì. Arrivederci. Arrivederci da Masterchef, grazie, grazie mille. Che carini, grazie davvero ai nostri amici che si sono fermati per salutarci. Allora, Fiorenzo, vedo che intanto hai lavorato con questa crema, queste zeppole, scusami. Sì.